Il cantautore e il comico insieme, come è nata questa strana coppia? Chi ha cercato chi e come è nato il progetto del disco? Ho sentito l'esigenza di avere un comico nella traduzione. Io ho cercato Checco sia come amico all'inizio della nostra conoscenza e poi l'ho cercato dopo aver sperimentato la sua bravura, avendolo sentito suonare, l'ho cercato come musicista. E io non ho potuto dire di me. Cosa avete imparato l'uno dall'altro? Io penso di aver imparato da lui la poesia, cos'è poesia, cosa è originale, è emozionante. Lui da me penso il giro di Do. Vai, rispondi tu. Che ho imparato da Checco? La leggerezza, il prendere tutto come viene, anche un progetto che è serio, nonostante l'apparenza scherzosa, è un progetto musicalmente serio, però ho trovato da parte sua una disponibilità fresca. È giusto che poi certe cose vengano assaporate nel momento in cui nascono e poi non devono per forza diventare progetti lunghissimi. Può succedere in certi casi, ma in altri casi no. Buop! Grazie a tutti.